La storia di quattro ricercatrici e dei loro contratti abbastanza discutibili con la fondazione della nostra famiglia, per adesso la quale hanno esercitato, e del loro epilogo è stato al centro delle cronache degli scorsi giorni. A tutelare queste ricercatrici oggi c'è la CGL. Wolfango Pirelli, che cosa insegna questa storia? Che intanto intorno a questa vicenda non c'è solo un problema strettamente sindacale di rapporto di lavoro di queste quattro ricercatrici. Il tema è che questo territorio continua a perdere importanti risorse intellettuali e non facciamo niente per trattenerle. Non a caso nell'ultimo rapporto sul mercato del lavoro ci dice che l'ECCO sta perdendo laureati che vanno a lavorare a Milano e perdere quattro ricercatori in settori strategici come quello della ricerca e della ricerca importante come quello della nostra famiglia è per questo territorio un problema enorme. Inoltre questo territorio ha dato vita attraverso Univerleco, attraverso la fondazione sul cluster tecnologia e ambienti di vita ad un'attenzione particolare a questi campi della ricerca. Sarebbe interessante sapere, Univerleco e la fondazione TAV, cosa dicono circa il fatto che stiamo perdendo anche su questo terreno importanti ricercatori. Fare il ricercatore in questi settori non si nasce dalla sera alla mattina, bisogna costruirlo. Ci sono degli investimenti intellettuali che non possiamo perdere. Quindi il tema non è solo la garanzia sindacale e contrattuale di queste quattro lavoratrici, ma cosa intende fare il territorio per trattenere dei valori intellettuali importanti come questi.